Dobbiamo entrare assieme in Europa e renderla trasparente e democratica. Il 25 maggio vinceremo le elezioni e spazzeremo via questa classe politica corrotta che pensa solo ai propri interessi. I politici del Trentino Alto Adige non sono da meno e ve lo abbiamo mostrato con lo scandalo dei vitalizi che sta minacciando la nostra autonomia. Il 25 maggio votate per voi!